A Terra Nuova prorogati i termini per partecipare ai corsi di formazione per assistenti domiciliari, una particolare attività sociale che comprende a seconda dei casi prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socioassistenziali. Si sviluppa attraverso diversi gradi di intervento in base alle specifiche necessità della persona che la richiede. Abbiamo già un buon numero di iscrizioni ma ci farebbe piacere saturare il numero dei posti perché crediamo che questo possa essere uno strumento veramente valido da un lato per garantire attraverso queste 40 ore di corso la formazione di chi si appresta o già svolge la funzione di assistente domiciliare. Dall'altro anche con l'istituzione del registro in cui le persone hanno fatto il corso verranno iscritte una garanzia per le famiglie che per l'appunto si avvalgono delle persone che faranno il corso. Perché come sappiamo è sempre crescente la richiesta di personale qualificato, si tratta di una materia sensibile insomma perché si tratta sostanzialmente di assistere persone in genere che non sono autosufficienti e quindi in questo contesto delicato un adeguato livello di formazione garantisce sia chi deve svolgere la mansione sia le famiglie che poi si avvalgono per l'appunto del personale qualificato. Quindi ecco un invito a tutti, il costo fra l'altro del corso l'abbiamo volutamente tenuto basso per facilitare l'accesso al corso stesso perché è di 30 euro e le iscrizioni sono prorogate fino al 16 di ottobre. In ogni caso un'opportunità di crescita per acquisire competenze che potrebbero aprire ai partecipanti alle lezioni una volta formati più facilmente le porte del mondo del lavoro. Per iscriversi è sufficiente presentarsi qui in comune e per l'appunto presentare domanda di iscrizione all'ufficio del protocollo o presso l'ufficio che si occupa delle materie del sociale.